Buonasera a tutti, ci troviamo qui a Da Vinci, la nostra parezza storica, per un sutto della prima parte di quest'anno sportivo 2021-2022 e per vedere cosa ci aspettano nel prossimo futuro. L'inizio stagione è stato ottimo, da settembre ad oggi abbiamo fatto tutti i campionati, presenti tutte le squadre, anche l'imibasco ha avuto numeri importanti, per cui l'inizio è stato veramente soddisfacente. I campionati sono partiti regolarmente, anche perché la pandemia ci ha permesso di giocare abbastanza tranquillamente, i minibasket in palestra è stato svolto regolarmente fino a metà dicembre e ora, dopo le feste, ripartirà il forno di 10 di gennaio. Abbiamo numeri importanti, il minibasket ha circa 350 bambini, mentre il storio giovanile ha 170 maschi e una quarantina di femmine delle tigrotte. Adesso per l'avventuale la festività, dovevamo fare dei giorni importanti, il minibutti di Bologna, il terreno di Varese e il regalia di Imola, e anche il terreno di Roma, ma assolutamente quest'ultimo terreno di Roma con le ragazze, è stato fatto perché gli altri in causa del problema Covid sono stati cancellati. Comunque a Roma abbiamo vinto, le ragazze del 2007 hanno conquistato questo ambito trofeo, Corso, Bernardi e Bernard, che sono soddisfatti e siamo tutti molto contenti per questo grande successo delle tigrotte che sono appunto composte da binde provenienti dall'arcomareno, da ragione dalle tigrotte. Cosa si aspettano il futuro? Intanto abbiamo fatto un importante camp adesso durante le festività natalizie, sia per le ragazze storie giovanile, con gli ultimi giorni di dicembre, sia per i primi giorni di gennaio. E questo è un servizio importante che noi riusciamo a dare ai genitori e anche ai bambini che sono molto contenti di riuscire a fare attività anche durante le feste. È una cosa che sicuramente ripeteremo anche durante le feste di visitare il cannevale. Pertanto il prossimo appuntamento che troverete sulle nostre pagine sociali e sul nostro sito che vi consiglio di guardare perché sono molto belli e organizzati dai ragazzi del Creative e del Media House di Adora. Ora l'attività continuerà dal 10 gennaio. Abbiamo una grande dose di vaccinati, per fortuna il nostro sito regionale, pertanto potremo giocare con le regole imposte dal governo e pertanto quindi si riparte. Ovviamente qualche problema si sarà, sicuramente, ma è giusto affrontarlo perché non fare niente secondo noi è molto peggio. Siamo andati avanti l'entranno che era una gestione molto più difficile, arrivandoci all'aperto e quando erano in zona Nalcione o fermandosi solamente in zona rossa a primi vasche, ma il settore giovanile appunto mi sembra parlato. Quest'anno che la situazione è sicuramente migliore e contiamo appunto di non fermarci mai, ripeto il mini basket, le palese, i tigrotti, il autore, il cuorello ripartirà con il numero di 10 per i soliti orari, il settore giovanile si è sempre rinato e poi sarà tutta una grande estate del 2022 con i nostri camp sia a Trieste, sia per i primi basket, per il settore giovanile, sia in montagna e a Pellinunza, ma avrete tutte le notizie, ripeto sempre sui nostri social, sulla pagina lazzurra, Arcobalena dei tigrotti, su Facebook, su Instagram e sul nostro sito www.arcobalena.com. A tutti partiamo del vocale 1, per il proseguo e buon 2021!